L'invicta, domenica nell'ultima partita di campionato contro la Leonardo da Vinci, vincendo è riuscita a mantenere l'imbattibilità nella regular season, chiudendo con 12 vittorie consecutive l'annata dei record per i gestisti nisseni. Contro la formazione palermitana, domenica il coach Giuseppe Spena ha potuto far rifiatare in vista del playoff un veterano come pari dei giusti, sostituendolo con il 2006 Antonio Palermo, frutto di un gran lavoro che la società biancorossa svolge anche con l'under 19. Adesso quindi testa al playoff di domenica 5 marzo contro il Sant'Agata, che tramite sorteggio si deciderà se la prima gara verrà giocata in casa o in trasferta. La Cusn invece domenica ha ripreso il suo cammino nella terza fase del campionato di promozione, con la vittoria al pala Cannizzaro contro la Fenice Priolo, vittoria sofferta dovuta anche al fermo del campionato. Adesso per i ragazzi capitanati da Davide Barbera impegno in trasferta sabato a Gela, nel derby contro i cugini della polisportiva. Basket, promozione, girone D, seconda giornata del terzo turno. Salusport, Olimpia Ragusa. Polisportiva Gela Cusn. Riposa la Fenice Priolo.